Il 13 settembre il plenum del CSM voterà il nuovo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in pole position, ma bisognerà attendere il giorno della verità per la nomina di questo che sarà il nuovo procuratore di Napoli e soprattutto conoscere il futuro di Nicola Gratteri, attuale capo della direzione distrittuale antimafia di Catanzaro. Dal canto suo, lui rimane apparentemente tranquillo e, come sempre, sicuro di sé e soprattutto operativo, come dimostra l'ultima operazione che ha portato ad 84 arresti. Io sono il felice procuratore pubblico di Catanzaro. Se dovessi andarmene da Catanzaro mi dispiacerebbe tantissimo perché io amo in modo viscerale la Calabria, lo dimostra la mia storia, dall'86 che lavoro in Calabria, anche avendo occasione di andare in posti più prestigiosi. Purtroppo, come sapete, entro il maggio del 2024 devo lasciare questa procura e allora nel mentre devo cercare un posto di procuratore della Repubblica. Tutto qua.